Nooo, hai perso. Sì. Papà? Che c'è? Guarda il mio foglio, guarda il mio foglio. Lontana dal buono, eh? Brava. L'ho messo direttamente la cassetta, dovremmo accendere, ma dove? Lo attendiamo in camera. Beh, intanto, prima bisogna aspettare che asciughi completamente. Eh, asciugato completamente, soffa. Asciugato un po'. No, no, non è asciugato completamente. Mi hai invagliato, devo lasciarlo un po'. È un po'. È un po'. È un po'. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.